Salve a tutti e benvenuti nel nostro primo spazio informativo. Il plesso della scuola primaria dell'infanzia di Via De Santis a Trapani da oggi è intestato a Don Lorenzo Milani. Questa mattina cerimonia la presenza delle autorità civili, militari e religiose. Un'intitolazione importante, quella di un plesso appunto scolastico della non genasi a Don Lorenzo Milani. Dottoressa Buonura. Sì, oggi per noi è un giorno di festa perché abbiamo la gioia di intitolare il nostro plesso scolastico che è a sede in Via De Santis a Trapani a Don Lorenzo Milani. Questa scelta nasce proprio dall'attualità del messaggio di Don Lorenzo Milani. Don Lorenzo Milani è stato un maestro, un sacerdote che ha messo al primo posto la scuola nella sua vita. È una scuola attenta ai bisogni di ciascun alunno, una scuola inclusiva. È una scuola dove la didattica parte dalla realtà, una didattica che parte dai problemi quotidiani e quindi si cala nella realtà. Siamo veramente felici oggi e siamo felici anche di concludere quest'anno scolastico così difficile con questo momento di festa. Don Alberto, che significa questa scuola intitolata Don Lorenzo Milani? Intanto significa dare a una persona, a un prete che ha vissuto tutta la sua vita per l'educazione e facendo capire anche forse in tempi 50 anni fa, più di 50 anni fa, quasi 60, in tempi in cui forse la scuola era un po' diversa, facendo capire un modo di insegnare, un modo di approcciarsi agli alunni in maniera nuova, in maniera più umana e soprattutto rispettando la persona per quella che è, cercando di prendere il meglio di ogni persona, di ogni ragazzo che cresceva. E per questo è un esempio. Dico a maggior ragione che un prete per noi ancora di più significa che questo lavoro, questo impegno che noi come preti facciamo, anche se non siamo maestri di scuola, però lo facciamo nella quotidianità del rapporto pastorale nelle nostre parrocchie. Nonostante la pandemia, diceva il sindaco, sicuramente ci siamo impegnati, devo dire ben supportati e anche abbastanza sollecitati dai nostri dirigenti scolastici che non finirò mai di ringraziare anche per il periodo veramente particolare. Oggi è un'occasione anche bella per ricordare la figura di Don Milani, educatore di scuola cattolica importante che trappani, ricordi anche questa figura e quando l'iniziativa della dirigente è stata immediatamente accolta dall'amministrazione e di questo ne siamo orgogliosi perché è un giorno di festa ma ricordiamo che il 27 maggio nacque Don Milani, quindi è bello anche che fra due anni avremo il centenario. Sarà bello ricordarlo anche qui. Torniamo tra poco con tutte le altre notizie. Sgominata la banda degli escavatori, sradicavano i banco ma te li portavano via, quattro colpi in provincia denunciate dalla polizia, 22 persone fra Catania, Marsala e Trapani. Bisogna aiutarlo. Una petizione perché si intervenga sulla vicenda del giovane emigrante che staziona prevalentemente in via Fardella, Trapani, evidente il suo malessere. Verificare l'operato dei direttori generali nelle Aspe. Una risoluzione della Commissione Sanità impegna il Governo regionale alla valutazione dell'operato dei vertici delle aziende sanitarie. Ex CNT parla Marinelli. Dopo le dichiarazioni di Monti interviene la società giudicatrice del bando per l'area del cantiere navale. Il Trapani deve mirare in alto, ad affermarlo Sandro Morgana, presidente del Comitato regionale della FIGC, che ha visitato la delegazione provinciale e l'intervista nello spazio dedicato allo sport. Il mercato ittico si trasforma nell'approfondimento dei 14.20 l'ipotesi progettuale di rimodulazione del mercato ittico al minuto di Trapani, che diverrà anche un centro propulsore di cultura, musica, attività sociale e prodotti tipici. Ben ritrovati in primo piano la cronaca. Gli uomini della squadra mobile di Trapani e gli investigatori del commissariato di Marsala hanno sgominato la banda dedita agli assalti ai bancomat con gli escavatori. Il servizio. 22 persone denunciate, 18 delle quali sottoposte a misura cautelare. È l'esito finale della operazione di polizia tra le province di Trapani e Catania, coordinata dal servizio centrale operativo e condotta dalla squadra mobile di Trapani, dal commissariato di Marsala con la collaborazione della polizia di Catania. Gli investigatori ritengono di avere individuato tre gruppi criminali, tra loro collegati, specializzati nel furto delle postazioni bancomat che venivano letteralmente sradicate mediante l'utilizzo di escavatori. Quattro i colpi messi a segno ed uno tentato. La prima incursione risale al 10 luglio del 2019, a Marsala ai danni di uno sportello della banca intesa, la seconda a Xitta il 31 agosto presso una filiale del credito valtellinese, il terzo e il quarto assalto ancora a Marsala il 3 ottobre e il 10 novembre dello stesso anno, ai danni rispettivamente della banca di credito cooperativo Tognolo e di una finiale di poste italiane. Infine, il tentativo non andato a buon fine avvenuto il 19 febbraio 2020 allo sportello ATM del credito siciliano di Trecastagne e Tneo, in provincia di Catania. I malviventi utilizzavano escavatori rubati per scardinare le postazioni bancomat e poi, dopo averli caricati a bordo di altri veicoli pesanti, sempre oggetto di furto, aprivano i bancomat in località appartate per estarne dall'interno il denaro. Immediata la sensazione degli investigatori, già dopo il primo assalto a Marsala del luglio del 2019, di essere di fronte a uno o più gruppi specializzati nella esecuzione di tali particolari colpi. Ma, per quanto ben organizzati, è difficile oggi sottrarsi alle investigazioni, effettuate anche attraverso le moderne tecniche di accertamento biologico, su alcuni oggetti rinvenuti e sequestrati dopo uno dei colpi. Insomma, le tracce di DNA rimangono e sono difficili da cancellare. L'ammontare globale della somma asportata monta ad oltre 225 mila euro, di cui 74 mila circa sono stati recuperati durante le indagini e restituiti alla banca assaltata. La testa dell'acqua, come si usa a dire, era a Catania. Poi sul territorio operavano due distinti gruppi, uno marsalese e l'altro trapanese. Vediamo questo secondo servizio. Le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Marsala e affidate in massima parte alla squadra mobile di Trapani e agli investigatori del commissariato di Marsala. I poliziotti hanno progressivamente accertato la presenza di una struttura catanese, composta da elementi di provata abilità, gente d'esperienza che, insomma, aveva il know-how, che mettevano a disposizione di due distinti gruppi, l'uno formato da pregiudicati marsalesi e l'altro da trapanesi, che fornivano assistenza logistica e supporto operativo alla testa dell'acqua catanese. Le accuse ipotizzate per i 22 denunciati vanno dall'associazione a delinquere al furto aggravato, sia delle postazioni Bancomat, sia dei mezzi necessari ai colpi, autovetture, furgoni ed escavatori. Per alcuni indagati, e qui emerge un altro elemento di fragilità dell'organizzazione criminale, anche la simulazione di reato per avere falsamente dichiarato il furto di propri veicoli, poi utilizzati negli assalti. Per qualcuno anche il danneggiamento di alcune vetture durante lo sradicamento delle postazioni Bancomat. Nel corso dell'attività sono stati sequestrati una bombola contenente ossigeno destinata a bloccare l'attivazione del meccanismo di macchiatura delle banconote e un disturbatore di frequenze, Jammer, che dà il nome all'operazione, utilizzato per bloccare il funzionamento di cellulari e dispositivi GPS nell'intorno degli istituti di credito durante i colpi. Nell'operazione che ha concluso le investigazioni sono stati impegnati, insieme agli uomini della mobile del commissario di Marsala, i reparti di prevenzione crimine di Siderno, Vibo, Valencia, Palermo e Catania, una unità cinofila della questura di Catania e un elicotto del reparto volo di Palermo. Nel prossimo servizio torniamo a parlare del senza tetto di origini africane che staziona tra Piazza Martiri d'Ungheria e la via Fardella a Trapani. I commercianti hanno avviato una raccolta firme per chiedere alle istituzioni che venga aiutato. La situazione infatti è degenerata, come ci racconta Giuseppe Passalacqua. Sono qui per sollevare una problematica diventata insostenibile in quanto si tratta appunto di un individuo che inizialmente creava dei giacigli dinanzi alle vetrine degli esercenti trapanesi impedendo sia commercialmente che igienicamente la vita della vetrina dell'esercente. Solo che ultimamente questa cosa sta degenerando in maniera negativa in quanto questa persona si permette di urinare sulle strisce petonali della nostra via Fardella, si permette di entrare e minacciare ripetutamente gli esercenti e le donne che hanno delle attività in via Fardella. Questa cosa è diventata veramente insostenibile. Sotto questo aspetto, grazie appunto alla solidarietà di tutti, da gran parte degli esercenti della nostra via Fardella, siccome il problema viene già sollevato da un po', grazie alla solidarietà di gran parte degli esercenti trapanesi, è stata fatta una raccolta di circa 150 firme, appunto di tutti gli esercenti della zona di via Fardella, per, diciamo, principalmente voglio precisare, non c'entra nulla il colore della pelle di questa persona, non entra nel merito della discussione, ma principalmente appunto per aiutarlo e soprattutto allontanarlo da quello che possa diventare uno scenario tragico per tutti noi, sia esercenti che cittadini. Allo stesso tempo mi appello alle autorità competenti di risolvere il problema nel più breve tempo possibile, in quanto Trapani non merita questa immagine. Allo stesso modo voglio dire che ieri ho avuto la possibilità di interloquire col sindaco Tranchida, il quale si è messo a disposizione, dicendomi che oggi stesso farà presente questa raccolta firme alla nuova prefetta e tempestivamente prenderà in mano la situazione per risolverla definitivamente. Il sindaco Giacomo Tranchida ha annunciato provvedimenti immediati per impedire che il giovane continui a disturbare o a minacciare commercianti e passanti o a compiere atti contrari alla pubblica decenza con una sorta di predaspo che gli inibisca la possibilità di stazionare ancora nella zona. Vi terremo aggiornati su questo argomento, adesso facciamo una pausa. Verificare l'operato dei direttori generali nelle ASP, una risoluzione della Commissione Sanità impegna il Governo regionale alla valutazione dell'operato dei vertici delle aziende sanitarie. Ex CNT parla Marinedi, dopo le dichiarazioni di Monti interviene la società giudicatrice del bando per l'area del cantiere navale. Il Trapani deve mirare in alto, ad affermarlo Sandro Morgana, Presidente del Comitato regionale della FIGC, che ha visitato la delegazione provinciale nel notizierio sportivo. L'intervista. Ben ritrovati. La Commissione Sanità dell'ARS chiede al Governo musumeci di verificare l'operato dei direttori generali e dei commissari nelle ASP e di valutarne l'efficienza sotto il profilo dei servizi sanitari resi ai cittadini. La risoluzione che impegna il Governo regionale è stata approvata all'unanimità dalla Commissione Sanità dell'Assemblea regionale siciliana. In pratica, il Governo musumeci è chiamato a verificare l'operato dei direttori generali o commissari delle aziende sanitarie sotto il profilo della efficacia dei servizi sanitari resi ai cittadini. La Commissione ha chiesto inoltre di avviare le procedure per la nomina dei direttori generali nelle aziende commissariate, come nel caso di Trapani, dove, come si ricorderà, il commissario Paolo Zappalà si è insediato all'indomani del direttore generale Fabio Damiani arrestato dalla Guardia di Finanza per aver intascato delle tangenti quanto era dirigente in un'ASP palermitana. La Commissione Sanità avrebbe anche fissato un termine, quello del 30 giugno, per il raggiungimento dell'obiettivo da parte del Governo regionale. Un'azione che, ricordano i componenti della Commissione, ha anche una previsione contrattuale che dispone la verifica da parte dell'assessorato alla salute al termine dei due anni dall'inizio dell'incarico per ciascun dirigente generale dell'azienda sanitaria. La Commissione, nel votare la risoluzione, ha ricordato che, data la situazione emergenziale e pandemica che stiamo vivendo, nonché le lamentele provenienti dai cittadini per quanto riguarda l'inefficienza di servizi presso le aziende sanitarie, si è ritenuto intervenire, vista l'inezia del Governo, al fine di avviare i dovuti accertamenti, accertare ipotesi di mala gestione e, di conseguenza, le responsabilità. Inoltre, si è ritenuto dover richiedere di fare uscire dal precariato le aziende commissariate per due ordini di motivi. Il primo, per consentire la programmazione, il secondo, per liberare dal volere politico i commissari non protetti da un contratto almeno triennale. L'assessore regionale alle attività produttive, Mimmo Turano, ha scritto al Ministro Giorgetti per chiedere chiarimenti sulle criticità del super bonus al 110%. L'assessore Turano ha chiesto l'intervento del Ministro Giorgetti su alcune criticità del super bonus al 110%. Lo ha comunicato lo stesso assessore alle attività produttive della regione siciliana nel corso di un webinar organizzato da Anci Sicilia in collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Palermo e l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili relativamente al super bonus previsto dal decreto rilancio che eleva al 110% la liquida di detrazione delle spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2022 per specifici interventi in ambito di efficienza energetica interventi antisismici installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Il super bonus del 110% ha spiegato Turano è una agevolazione che ha avuto un'ampia risposta positiva ma numerose imprese segnalano che la presenza di vincoli delle soprintendenze o altri divieti a livello comunale impediscono interventi di isolamento termico o acustico sulle facciate di edifici ricadenti nei centri storici delle città. Per l'assessore alle attività produttive salvaguardare l'aspetto dei nostri centri storici e consentire il più ampio accesso alla misura sarebbe possibile consentendo l'ammissibilità al beneficio dell'intonaco termoisolante una soluzione leggera economica e versatile che potrebbe egregiamente sostituire il cosiddetto cappotto termico. Turano si è augurato che dal Ministero dello Sviluppo Economico possa arrivare presto un chiarimento su questa criticità. Torniamo a parlare della vicenda dell'ex cantiere navale di Trapani parla Marineidi la società giudicatrice del bando dopo le dichiarazioni di ieri del Presidente Pasqualino Monti. Dopo l'intervento ai nostri microfoni ieri del Presidente dell'autorità portuale Pasqualino Monti che sostanzialmente chiedeva di rispettare il cronoprogramma arriva la nota dell'amministratore della Marine di Renato Marconi società aggiudicatrice del bando predisposta a suo tempo dalla capitaneia di Porto di Trapani sull'ex cantiere navale. A seguito dell'approvazione del progetto esecutivo per il completamento della ristrutturazione del cantiere nautico di Trapani avvenuto una ventina di giorni fa scrive la società romana abbiamo avviato tutte quelle attività propedeutiche all'inizio dei lavori così come previsto dal programma di concessione in particolare abbiamo costituito la società di scopo denominata base nautica Trapani che sarà affidataria della concessione sottolineando come la società sia stata già fornita degli adeguati strumenti e provviste finanziarie le prime attività successive alla messa in sicurezza del cantiere a suo tempo effettuata saranno la prevista demolizione di alcuni capannoni fatiscenti la bonifica dei rifiuti al tempo stoccato all'interno dei medesimi capannoni la sistemazione dei nuovi piazzali con i relativi impianti la ristrutturazione dell'edificio per servizi ed uffici queste attività continua l'ingegnere Marconi organizzate e pianificate nei primi giorni di maggio inizieranno a giugno e si concluderanno a novembre prossimo nei sei mesi successivi saranno completate anche le altre opere previste attendiamo con ansia la liberazione delle banchine e del molo attualmente impegnate dall'ormeggio della nave sequestrata a Juventa e ingombrate da massi naturali e dal pontone di proprietà dell'impresa adormare come accade ovunque in Italia dalla Sicilia al Friuli conclude con un pizzico di amarezza ma altrettanto realismo la nota le pratiche burocratiche propedeudiche all'avvio dei lavori nelle aree demaniali marittime impegnano tempi lunghissimi e così si è verificato anche a Trapani ma ora siamo arrivati al termine di questa procedura continua Marine D e contiamo pertanto di avviare al più presto quanto previsto dagli impegni concessori insomma per la Marine D i trapanesi si renderanno presto conto che il futuro dell'ex cantiere navale è assicurato con una previsione di impatto economico notevole adesso non resta che attendere i lavori domenica mattina dalle 10 alle 12 si svolgerà la quarta giornata di tutela ambientale della Lega Navale Italiana di Trapani i volontari si daranno appuntamento in via isola a Zavorra per avviare la pulizia di un tratto di litorale del Ronciglio si concluderà domenica lungo il litorale alle spalle del Molo Ronciglio con la quarta giornata di tutela ambientale l'iniziativa ecologica organizzata dalla Lega Navale Italiana sezione di Trapani i volontari della stessa Lega Navale gli alunni i professori di alcune classi dell'istituto tecnico-nautico Marino Torre di Trapani e gli scout della comunità Masci Trapani 1 Carmelo Orrallo ripuliranno la spiaggia che va dal Molo Ronciglio al vecchio spizio marino in zona di prediserva delle saline da plastica vetro lattine carta rifiuti vari sartiame cassette di pesce ma soprattutto rifiuti portati dalle onde perché il mare in linea di massima restituisce sempre ciò che l'uomo proditoriamente vi abbandona nelle settimane scorse lo stesso gruppo di volontari ha ripulito la spiaggia del litorale nord che va dall'hotel Cavallino Bianco alla Tonnara Tipa il litorale nei pressi del Lazzaretto e delle mure di Tramontana tratti di costa in una cornice ambientale splendida da cui si possono amminare le isolegati e Tramonti Mozzafiato l'auspicio della sezione di Trapani della Lega Navalitaliana è quello di dare una tutela più assidua nelle coste trapanesi in particolare le zone in prossimità del porto che dovrebbero essere sotto la duplice tutela della Capitaneria e dell'autorità portuale per quanto meritoria e assidua l'azione di volontariato non potrà mai sostituire la costante iniziativa di controllo e di intervento degli organismi istituzionali deputati per compito di istituto avete visto queste due belle piantine al mio fianco durante tutto il telegiornale è infatti tornata l'iniziativa dell'Aism dal titolo Bentornata Gardenzia da domani a domenica sarà possibile sostenere la ricerca per la lotta alla sclerosi multipla acquistando una gardenia negli appositi banchetti che saranno allestiti anche in provincia di Trapani i punti di solidarietà Aism 2021 si trovano a Trapani in piazza Vittorio Veneto ad Alcamo in piazza Ciullo a Marsala in piazza della Repubblica a Mazzara in piazza Mocarta e a Paceco a piazza Vittorio Emanuele vi raccomandiamo quindi di sostenere la ricerca per l'Aism e di acquistare queste due belle piantine che oltre ad essere belle sono anche molto profumate adesso gli appuntamenti sulla nostra emittente noi siamo famiglia riflessioni sul DDL ZAN il tema della puntata di questa sera di De Politi che andrà in onda in diretta alle 21 e poi in replica alle 23 in studio con il direttore Nicola Baldarota ci saranno Daniela Tomasini rappresentanza di Arcighei Palermo Leo Palazzolo Colonna in rappresentanza della famiglia Arcobaleno e Bianca Polizzi in rappresentanza di Amnesty International Alcamo vi ricordo sempre il nostro sito telesudweb.it adesso diamo uno sguardo alle previsioni del tempo e poi ci ritroviamo con lo sport Il calcio e la ripartenza sono stati al centro della riunione della delegazione provinciale della FIGC che ha ospitato il presidente regionale Sandro Morgana a il servizio di Federico Tarantino Dal basso verso l'alto così il mondo dello sport e del calcio vuole ripartire dopo aver trascorso un periodo difficile caratterizzato dalla pandemia Il tema è stato al centro di una visita da parte del presidente regionale della FIGC Sandro Morgana alla delegazione provinciale presieduta da Bruno Lombardo Per larghi tratti della stagione il dattilo è stata l'unica realtà della provincia di Travani a scendere nei tappeti verdi e da matricola in Serie D ha raggiunto una salvezza con largo anticipo Un risultato che rappresenta l'apice per una squadra di una frazione di soli 400 abitanti Questo ha testimonianza del fatto che se si fa buona amministrazione se c'è una società seria una società forte una società ben dimensionata io credo che in realtà come il dattilo possono fare la Serie D la possono fare in condizioni diciamo di normalità lei ha detto con sei giornate di anticipo si è salvato quindi questo secondo me è un risultato molto importante spero che il futuro per Trapani sia veramente con significativamente denso di presenze di presenze non soltanto nel campionato di Serie D dove io auspico veramente due presenze ma anche nel campionato di eccellenza di promozione di prima categoria di seconda e soprattutto di terza noi faremo io sto girando tutti i comitati regionali dell'isola questo è il mono che faccio e avrò solo Enna sabato e sto sronando tutti ad una ripresa una ripresa seria significativa perché abbiamo aperto le delegazioni provinciali a maggio perché non potevamo stare più chiusi avevamo necessità di riaprire di stare sul territorio di fare vedere che noi ci siamo che lavoriamo e che vogliamo crescere insistere e persistere così la Serie D e gli altri campionati stanno portando al termine la stagione sportiva le stesse caratteristiche che dovrà avere il Trapani per ripartire le società della Serie D hanno fatto grandi sacrifici e ci sono sarebbe stato bello che ci fosse anche il Trapani sarebbe stata veramente una cosa importante io lo ribadisco ancora una volta una realtà come Trapani non può che partire dalla Serie D abbiamo ricordato un evento bello io sono stato letto la prima volta nel 2007 Presidente del Comitato Regionale Sicilia quell'anno il Trapani vinse gli spareggi nazionali e andò al campionato di Serie D e da quel momento è stata una escalation fantastica io spero spero di portare bene e spero che questo nuovo Trapani qualunque esso sia possa veramente guardare avanti Calcio giocato vittoria in trasferta per il Dattilo che ieri ha espugnato il campo del Marina di Ragusa importante successo per il Dattilo che ieri nel recupero del campionato di Serie D ha espugnato il campo del Marina di Ragusa grazie alla rete realizzata da Claudio Di Giuseppe nella seconda parte del secondo tempo della partita una vittoria che lancia il Dattilo verso i playoff distanti 5 punti la squadra di mister Ignazio Chianetta non è riuscita poi a chiudere l'incontro con il secondo gol ma comunque è riuscita a conquistare il successo nel primo tempo il Dattilo aveva provato a portarsi avanti con Lupo e Manfrè ma solo nel secondo tempo è riuscito a capitalizzare con la rete messa a segno a Di Giuseppe un gol nato sugli sviluppi di un calcio d'angolo con l'attaccante Bianco Verde abile nel colpire la sfera di gioco al volo a festeggiare in panchina c'era Giuseppe Mazzarella storico responsabile sanitario del Trapani che ha preso parte alla trasferta da medico sociale del Dattilo Mazzarella è tornato a respirare il mondo che tanto ama una presenza che ha portato bene a Bianco Verdi come può cambiare l'asset logistico e funzionale dell'area del porto peschereccio a Trapani in funzione della nuova vision sulle due strutture dedicato al mercato del pesce ascoltiamo il sindaco Giacomo Tranchida Il centro storico culturale di Trapani è sulle rive del mare e nel cuore metterà e qui allora qui noi dobbiamo fare una grande operazione anche di restaring se mi consentite di recupero e di riqualificazione conservando il mondo della pesca tradizionale perché i contadini del mare sono la storia di Trapani da un lato Non è un caso che siamo proprio in quello che ritornerà ad essere il mercato del pesce Qualcuno potrebbe dire un sapore d'antico adesso io non sono un conservatore però il sapore d'antico si è un sapore di qualità e qui mi garantisce condizioni igienico-sanitarie ottimali io sono per recuperare anche quel sapore d'antico e di nostalgico sul nuovo sull'esterno abbiamo un'idea che piacerà molto ai turisti piacerà molto ai giovani che è quella di fare una sorta di buscerie un mercato all'apetto dove ci sia anche il coppo di pesce fritto per intenderci ci può essere l'ostrica ci può essere qualcos'altro e perché no la sera un po' di vino bianco e un po' di musica non guasta questo è il senso della filosofia il sindaco vedo che ha delle carte in mano che sono dicevo questo diciamo direttamente a Pasquale di Monte di concederci ancora l'aria dove ci sta il mercato del pesce all'esterno che noi vorremmo fare una sorta di busceria all'aperto c'è già una chiedi massima dell'asp per ripristinare i teli da un lato le coperture gazebi per le attività ortofrutta eccetera il coppo il pesce fritto i tavolini deve diventare un luogo di ritrovo anche per il mercato San Lorenzo di Palermo per dire una cosa del genere però in chiave ittica ovviamente io molto rispetto per i santi anche per Palermo che è la città capologo regionale mi piacerebbe una cosa un pochino più europea visto che siamo la prima città d'Europa nel Mediterraneo la facciamo un po' più alla Barcellona ok? Seconda edizione ben ritrovati iniziamo con un aggiornamento che riguarda la cronaca un trentenne marsalese è stato arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti il fiuto infallibile del cane Lego ha permesso di trovare appunto lo stupefacente durante un servizio antidroga eseguito dai carabinieri della stazione San Filippo e della sezione radiomobile con il supporto del nucleo cinofili di Villa Grazia i militari hanno eseguito una perquisizione nell'abitazione del trentenne trovando 500 grammi di marijuana nascosti sia all'interno dell'appartamento sia nella vettura in uso all'uomo insieme allo stupefacente sono stati trovati anche bilancini di precisione e materiale utile al confezionamento delle dosi l'autorità giudiziaria ha convalidato l'arresto operato dai carabinieri con l'applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tutti i giorni e la sospensione dell'erogazione del reddito di cittadinanza gli uomini della squadra mobile di Trapani e gli investigatori del commissariato di Marsala hanno sgominato la banda dedita agli assalti ai bancomat con gli escavatori il servizio 22 persone denunciate 18 delle quali sottoposte a misura cautelare è l'esito finale della operazione di polizia tra le province di Trapani e Catania coordinata dal servizio centrale operativo e condotta dalla squadra mobile di Trapani dal commissariato di Marsala con la collaborazione della polizia di Catania gli investigatori ritengono di avere individuato tre gruppi criminali tra loro collegati specializzati nel furto delle postazioni bancomat che venivano letteralmente sradicate mediante l'utilizzo di escavatori quattro i colpi messi a segno ed uno tentato la prima incursione risale al 10 luglio del 2019 a Marsala ai danni di uno sportello della banca intesa la seconda a Xitta il 31 agosto presso una filiale del credito valtellinese il terzo e il quarto assalto ancora a Marsala il 3 ottobre e il 10 novembre dello stesso anno ai danni rispettivamente della banca di credito cooperativo Tognolo e di una finiale di poste italiane infine il tentativo non andato a buon fine avvenuto il 19 febbraio 2020 allo sportello ATM del credito siciliano di Tre Castagne e Tneo in provincia di Catania i malviventi utilizzavano escavatori rubati per scardinare le postazioni bancomat e poi dopo averli caricati a bordo di altri veicoli pesanti sempre oggetto di furto aprivano i bancomat in località appartate per estarne dall'interno il denaro immediata la sensazione degli investigatori già dopo il primo assalto a Marsala del luglio del 2019 di essere di fronte a uno o più gruppi specializzati nella esecuzione di tali particolari colpi ma per quanto ben organizzati è difficile oggi sottrarsi alle investigazioni effettuate anche attraverso le moderne tecniche di accertamento biologico su alcuni oggetti rinvenuti e sequestrati dopo uno dei colpi insomma le tracce di DNA rimangono e sono difficili da cancellare la montare globale della somma asportata monta ad oltre 225 mila euro di cui 74 mila circa sono stati recuperati durante le indagini e restituiti alla banca assaltata il plesso della scuola primaria e dell'infanzia di via dei santi Satrapani è stato intestato a don Lorenzo Milani questa mattina una cerimonia alla presenza delle autorità civili militari e religiose beh un'intitolazione importante quella di un plesso appunto scolastico della non genasi a don Lorenzo Milani dottoressa Bonura sì oggi per noi è un giorno di festa perché ecco abbiamo la gioia di intitolare il nostro plesso scolastico che è a sede in via dei santis a Trapani a don Lorenzo Milani questa scelta nasce proprio dall'attualità del messaggio di don Lorenzo Milani don Lorenzo Milani è stato un maestro un sacerdote che ha messo al primo posto la scuola nella sua vita è una scuola attenta ai bisogni di ciascun alunno una scuola inclusiva è una scuola dove la didattica parte dalla realtà una didattica che parte dai problemi quotidiani e quindi si cala nella realtà siamo veramente felici oggi e siamo felici anche che di concludere quest'anno scolastico così difficile con questo momento di festa Don Alberto che significa questa scuola intitolata Don Lorenzo Milani? intanto significa dare a una persona un prete che ha vissuto tutta la sua vita per l'educazione e facendo capire anche forse in tempi 50 anni fa più di 50 anni fa quasi 60 in tempi in cui forse la scuola era un po' diversa facendo capire un modo di insegnare un modo di approcciarsi agli alunni in maniera nuova in maniera più umana e soprattutto rispettando la persona per quella che e cercando di prendere il meglio di ogni persona di ogni ragazzo che cresceva e per questo è un esempio a maggior ragione che un prete per noi ancora di più significa che questo lavoro questo impegno che noi come preti facciamo anche se non siamo maestri di scuola però lo facciamo nella quotidianità del rapporto pastorale nelle nostre parrocchie ma nonostante la pandemia diceva il sindaco sicuramente ci siamo impegnati devo dire ben supportati e anche abbastanza sollecitati dai nostri dirigenti scolastici che non finirò mai di ringraziare anche per il periodo veramente particolare oggi è un'occasione anche bella per ricordare la figura di Don Milani educatore di scuola cattolica importante che trappani ricordi anche questa figura quando l'iniziativa della dirigente è stata immediatamente accolta dall'amministrazione e di questo ne siamo orgogliosi perché è un giorno di festa ma ricordiamo il 27 maggio nacque Don Milani quindi è bello anche fra due anni avremo il centenario sarà bello ricordarlo anche qui e di questo è un'occasione che è un'occasione che è un'occasione che è un'occasione e che è un'occasione